Purtroppo, come ormai sapete tutti, la seconda edizione della Cerdinia Skisprint è stata rinviata al 6 di aprile. Oggi le elastiche di vento erano veramente troppo forti per poter permettere l'allestimento del parterre di gala. Diciamo che però in fin dei conti va bene così perché riuscire a fare una manifestazione di questo tipo a fine stagione ci permetterà a noi atleti, diciamo così, di rilassarci anche a fine stagione con una bella festa tutti assieme. Quindi vi saluto tutti, ciao e ci vediamo a Pasquetta. Grazie a tutti.